Si è presentato all'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria nel caldo pomeriggio di lunedì 1 luglio intorno alle 17 con una ferita all'avambraccio sinistro, dichiarando al personale addetto all'accettazione di essere stato colpito da un proiettile. Il ferito è un uomo di 30 anni, di Lizzano, che avrebbe chiesto sempre al personale sanitario di non informare di questo le forze dell'ordine, che prontamente invece hanno chiamato il locale commissariato di polizia di Manduria, intervenendo sul posto e facendo scattare l'allerta. Il lizzanese, che si sarebbe autodimesso dall'ospedale Messapico, è stato poi generalizzato dai poliziotti, che lo hanno trattenuto per accogliere le sue prime dichiarazioni. Da una prima ricostruzione dei fatti, il lizzanese era a bordo di un'autovettura in agro di Pulsano, quando è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco che lo ha ferito il braccio sinistro. Forse un regolamento di Conti che ha spinto l'aggressore ad aprire il fuoco contro il giovane lizzanese.